Scusate, prima non me ne sono neanche accorto e ho parlato in inglese, scusate, ho chiesto di dire, ma ho parlato in inglese? Ok, stupido, ok. Allora, innanzitutto grazie a tutti gli orientatori, grazie a Nino, un amico mio, un compagno e logicamente anche molti viaggi insieme, molte gare insieme, vissute nei palazzetti. Beh, innanzitutto grazie a Napoli di averci ospitato qui, grazie. E se li state chiedendo se nel santo ho sbagliato, sì, ho sbagliato in inglese. If you have a little thought that something went wrong over there, yes, it's true. E lo sapete? La strana cosa è che quel pezzo di coreografia ce l'ho avuto probabilmente da sei anni e l'ho sbagliato stasera, non si sa perché. Alcune volte non si sa come vanno le cose. Anyway, con questo volevo salutare tutti, volevo salutare l'iniziativa di questo Napoli Open, che vedo che sta andando molto bene e vi auguro a tutti un buon proseguimento. Noi purtroppo questa sera dobbiamo viaggiare per un altro show domani a Cracovie e dopo, giorno dopo, a Beijing, a Pechino. Quindi non possiamo riparare tutto di questo. So, l'ultimo ballo che vi dedico sarà la romba. Mi cosentete un minuto che vado a vestire a me e io torno subito. Grazie ancora. Grazie. 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 Grazie.